I pazienti con malattie infiammatorie croniche intestinali sono pazienti estremamente complessi, anche perché mentre noi spesso tendiamo a trovare un colpevole per una patologia, l'ideale sarebbe avere una patologia infettiva che può essere curata con un antibiotico, un antifungino, un antivirale, in questo caso non esiste un bersaglio noto. Noi sappiamo che in qualche modo questa malattia è caratterizzata da un attacco del sistema immunologico mucosale intestinale contro le componenti stesse del nostro intestino, forse contro le comunità microbiche che vivono nell'apparato digerente. Quindi la grande difficoltà qual è? Innanzitutto partire dal presupposto che non esiste un paziente tipo, esistono ogni paziente ha delle sue specificità, ognuna di queste malattie viene in un momento diverso della vita, c'è un evento stressante di attivazione diverso, c'è un background culturale, genetico, di vita diverso, quindi il primo consiglio, il primo suggerimento è la conoscenza profonda della persona che abbiamo di fronte, non solo dell'organo che abbiamo di fronte, conoscere la persona, conoscere il contesto in cui vive quella persona e il contesto in cui è cresciuto quella persona e qui andiamo nella più grande innovazione degli ultimi anni che è il microbiota intestinale e i suoi rapporti con il sistema immunitario. Sappiamo che il microbiota colonizza l'intestino del bambino nei primi dieci anni di vita, quindi tutto quello che succede a quel bambino nei primi dieci anni può avere un ruolo poi nella patogenesi di crono colitulcerosa. Bisogna conoscere il sistema immunitario, sappiamo che ognuno di noi è controllato da polimorfismi diversi, quindi in qualche modo non può esistere una terapia che va bene per tutti e poi dobbiamo sapere che il sistema immunitario oltre ad avere un controllo locale c'è anche un controllo mediato dall'asse intestino cerveglio, quindi bisogna conoscere la psicologia della persona. Quindi se uno volesse riassumere tutto questo bisogna uno pensare che nessun paziente è uguale a quello precedente, ognuno ha le sue specificità, ognuno ha dei motivi diversi per cui questa malattia autoinfiammatoria di protezione, forse una protezione abberrante, si è sviluppata. Dobbiamo quindi conoscere il paziente, dobbiamo sapere se ha bisogno di un supporto psicologico, dobbiamo sapere se ha una nutrizione sbagliata e in quel caso correggerla e poi dobbiamo quando è possibile usare farmaci a bersaglio molecolare, cioè dobbiamo per quanto possibile evitare farmaci che vadano bene per tutti i pazienti, perché questo approccio non esiste più in medicina, e trovare quelle vie immunologiche che sono specifiche per il paziente. Abbiamo ultimamente farmaci biologici straordinari, vanno usati, vanno usati con intelligenza, ma soprattutto dobbiamo personalizzare al massimo le terapie, sapendo che non esiste una terapia uguale per tutti.